Action Aid, in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, invita a una scena di beneficenza il 16 ottobre a D'Anghiari. Ce ne parlano Cristina Romanelli e Raffaella Besi, due attiviste. Parliamo subito con Raffaella Besi. Di che cosa si tratta? Allora, questa scena è una scena di beneficenza che è stata messa in atto da noi attiviste, in modo particolare dall'associazione Action Aid. Action Aid, che è un'associazione che si occupa del diritto al cibo e all'istruzione, quindi ad aiutare quelle persone più disagiate che ci sono nel mondo. Action Aid è un'associazione che già da 10 anni lavora in Tanzania per aiutare la gente più povera, aiutandola a garantire cibo e istruzione. E infatti la vostra iniziativa è finalizzata proprio a questo? Sì, la nostra iniziativa è finalizzata ad aiutare i bambini della Tanzania creando 10 scuole, 10 bagni e 10 pozzi per la Tanzania, per un piccolo paese chiamato Achilva, per aiutare queste persone ad garantire proprio un'istruzione alla popolazione. E adesso rivolgiamo una domanda anche a Cristina Romanelli che ci parla in particolare di che cosa vedranno quelli che verranno a cena ad Anghiari il 16 ottobre, perché c'è anche uno spettacolo. Sì, allora la serata sarà una serata molto piacevole, verranno coinvolti degli artisti locali, avremo durante la serata il Tedamis, che è un'accademia di danza, teatro e musica, che farà uno spettacolo proprio all'interno del Castello di Sorci, coinvolgendo anche i partecipanti con uno spettacolo proprio interattivo. Ecco perché c'è Eva Santucci e poi c'è la Zumba con Lucia e Giulio, ma non solo. C'è anche Jacopo Falchi, che è un artista, un cantautore tifernate, che farà un live esclusivamente per noi. È la prima volta che Action Aid si affaccia in Valtiberina. Voi avete anche un motivo particolare per cui siete legate a questa associazione, in particolare Cristina Romanelli ha un motivo particolare. Ma io è stato un caso, però le cose non succedono mai a caso. 15 anni fa adottai un bambino a distanza, brasiliano, Alexandre, con Action Aid. E a distanza di 15 anni ho conosciuto Raffaella Besi, che è attivista e ha coinvolto me in questo progetto, in questa famiglia grandissima, come attivista. Quindi ecco c'è stata questa cosa molto interessante. E quindi è un'iniziativa che ho sposato molto volentieri perché ho testato veramente con mano la professionalità, la serietà dell'associazione Action Aid. Ecco, abbiamo detto che quindi l'Action Aid si affaccia per la prima volta alla Valtiberina. È sicuramente nella sensibilità di molti, ma l'ambizione sarebbe quella di costituire una sede, e quindi anche un ufficio o a Sansepolcro o a Danghiari, ma insomma una sede provinciale. Sì, quello che vorremmo fare è, grazie a questa cena, poter incentivare ancora di più e motivare ancora di più tutti gli attivisti nella nostra zona, per formare e per dare la possibilità ad avere un ufficio Action Aid nella nostra zona, che possa essere Sansepolcro o Dimitrofe. Peraltro si svolge la cena in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, quindi una sensibilità particolare all'alimentazione a tutti, come non è oggi nel mondo, ma è naturale avere questa sensibilità. Eppure la vostra associazione si adopera proprio per ricordare questa problematica. Il diritto al cibo, quindi sarà la giornata dedicata al diritto al cibo, dove al Castello dei Sorci troveremo comunque sia tutti i piatti poveri, dedicato proprio a questa giornata fondamentale e speciale per andare incontro alla fame nel mondo. Allora, la cena ha dei costi veramente sociali, che tra l'altro hanno un occhio di riguardo ai bambini, con i bambini sotto i 4 anni che sono del tutto ospitati gratuitamente, quelli grandicelli pagano un pochino e gli adulti pagano pochissimo. Allora, sì, esatto. Gli adulti pagano 22 euro, i bambini fino a 6 anni sono gratuiti e dai 6 anni ai 12 anni 11 euro. Quindi ecco, per far capire che veramente l'iniziativa è proprio dedicata, insomma, e ovviamente completamente devoluta in beneficenza. Le forze sono tutte quindi della Valtiberina Toscana. Avete coinvolto anche un gruppo che si occupa di teatro e di danza, che è appunto il Tedamis. Sì, il Tedamis farà questo spettacolo. È uno spettacolo teatrale principalmente, dove ci saranno ovviamente anche dei bambini, perché ovviamente si parla di questo. E quindi faranno questo spettacolo direttamente durante la cena, coinvolgendo ovviamente gli ospiti che saranno a cena. E sarà un momento veramente molto bello e molto coinvolgente. Mi pare di capire che ci sarà anche una regia. Questa regia è naturalmente data ai responsabili del Tedamis, vero? Ci sarà sì, la regia, che è guidata da Gianluca, che da quanto mi ha annunciato, comunque sia metterà in gioco 12 o 13 bambini, i quali faranno dei piccoli stage teatrali sui tavoli, quindi coinvolgeranno anche le persone. E sarà tutto riguardante al cibo. Ancora non so con precisione il tema, però al momento che lo avremo potremo comunque diffondere meglio questa notizia. Voi già raccogliete le adesioni e lo fate in vario modo? Sì, stiamo facendo delle prevendite, aiutandoci principalmente dai nostri sponsor che ci hanno aiutato fino ad oggi. E poi facendo un passaparola e coinvolgendo, cercando di coinvolgere tutti quanti, sia della Valtiberina che di Anghiari, riuscendo a mettere più forze insieme e portare questa cena veramente a... Speriamo di riuscire veramente a portare tanta gente e che questa cena venga con dei bellissimi risultati. È un'operazione faticosa quella di coinvolgere gli altri? Sì, tantissimo. Cosa si sta mettendo in atto? Cioè la vostra ambizione non è solo che riesca bene la cena, perché questo vorrebbe dire per voi raccogliere un'economia notevole, poter mandare una sostanza, diciamo, interessante, ma anche far conoscere Action Aid a chi non sa ancora che cos'è. Esatto, questo è il nostro obiettivo primario, però ecco, parte tutto da questa cena, perché ovviamente è stato già illustrato ai sponsor, comunque alle persone che sono state coinvolte e che molto carinamente, molto spontaneamente hanno aderito, anche perché ovviamente il sociale è sempre comunque un tema molto toccante e molto sensibile. Bisogna, secondo me, lavorarci ancora un pochino di più, perché, come dico sempre, le parole le porta via il vento, i fatti sono quelli che contano. E quindi riuscire comunque ad avere un ottimo risultato con questa cena e quindi contribuire anche in piccola parte alla raccolta di fondi per questo progetto Tanzania porterà ovviamente alla riuscita dell'apertura ovviamente di questa sede provinciale e quindi a una sensibilizzazione ancora maggiore per quanto riguarda Action Aid e quindi tutto il mondo Action Aid, che parte dall'adozione a distanza, violenza contro le donne, fame nel mondo e quindi insomma dei temi sicuramente molto importanti. Quindi, diciamo, la fascinazione di Romanelli a questa associazione nasce proprio da lontano con questa adozione e il ragazzo, l'abbiamo salutato prima, più ragazzo non è, però non ci si occupa quindi solo di adozione, oggi ci si occupa anche delle grandi problematiche. Sì, assolutamente, come ho già detto, si parla ecco di fame nel mondo, si cerca proprio per questo come nel progetto Tanzania non tanto di portare cibo ma di aiutare proprio il popolo, in questo momento Chilua, a con le proprie forze, le loro ovviamente possibilità a poter ovviamente crearsi, ovviamente il sostentamento, quindi la loro alimentazione è basata sull'agricoltura, sulla pesca, quindi è molto semplice e quindi aiutarli a vivere da soli, ovviamente non con aiuti esterni, ma di poter fare ovviamente con le loro forze, ovviamente aiutandoli a costruire pozzi e quindi poi la raccolta piovana, l'istruzione, quindi a portare la materia prima per poi lavorarci, quindi insegnare a loro come fare per poi proseguire il messaggio. Ecco, su questa stessa tematica faccio intervenire anche Raffaella Besi. Allora è un argomento anche questo di straordinaria attualità, quello di poter collaborare con queste nazioni che hanno delle difficoltà affinché possano camminare con le proprie gambe e in loco riuscire a realizzare qualcosa di buono per poter anche, come dire, interessare, trattenere, impiegare tutti quei popoli che oggi sempre più pressanti si affacciano a cercare un futuro invece in altre nazioni. Ecco, l'abbiamo già detto, però specifichiamo meglio. Sì, quello che noi stiamo facendo è di dargli la capacità con le loro stesse mani di poter gestire la loro vita nei propri paesi, nel proprio luogo, aiutandoli a coltivare, quindi a seminare, aiutandoli con le istruzioni bambini e dandogli il sostentamento. Quindi queste sono le forze che Actioned sta usando per aiutare il progetto Tanzania e tutte le altre parti mondiali con cui sta collaborando. Torniamo in Valtiberina, lo lascio ricordare a lei, che cosa avviene, e così salutiamo i telespettatori, il 16 ottobre. Il 16 ottobre ci sarà questo evento molto importante al Castello dei Sorci, dove vi aspettiamo tutti voi e verrà fatta praticamente una spiegazione per quanto riguarderà Actioned, l'associazione stessa, il progetto Tanzania. Il progetto andrà in beneficenza ai bambini della Tanzania per costruire dieci scuole, dieci pozzi e dieci bagni. Ci sarà una bellissima cena con tanto spettacolo e tanto divertimento, quello che noi vogliamo e chiediamo, la vostra partecipazione.